benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda del tempo libero in piazza paltrinieri a pieve del cairo lunedì 10 e martedì 11 settembre finale della festa patronale 2018 al civico 17 di mortara si inaugura giovedì 13 settembre la mostra lio disegnante 200 disegni per l'arte orafa di beppe pasciutti aperta fino al 30 settembre da giovedì 13 domenica 16 settembre sartirana textile show mostra mercato di arte textile che riunisce alla fila di sartirana lomellina mercanti collezionisti ed appassionati da tutto il mondo si potranno inoltre visitare le mostre collaterali intrecci del novecento aralzi e tappeti di artisti e manifatture italiane e tappeti di zeki muren la mostra mercato apre al pubblico giovedì 13 dalle 16 alle 21 venerdì 14 dalle 10 alle 20 sabato 15 dalle 10 alle 21 e domenica 16 dalle 10 alle 19 all'area feste di cerniago da giovedì 13 e domenica 16 settembre sagra del risotto nelle quattro serate è possibile gustare i pianti del territorio e ascoltare ottima musica domenica 16 settembre alle ore 15 e 30 gran premio delle macchinine a pedali venerdì 14 settembre inaugurazione alla biblioteca civica di san nazaro de burgondi di arte dall'infanzia alla natura aperta fino al 22 settembre a casteggio all'auditorium certosa cantù venerdì 14 settembre quando la poesia diventa musica ricordando gabriele d'annunzio festa nazionale dei piccoli comuni italiani da venerdì 14 a domenica 16 settembre a inverno e monteleone arriva nazanotea nel sabato 15 e domenica 16 settembre inizia la settimana della fotografia sabato 15 e domenica 16 terzo appuntamento del settembre folcloristico allo stand della festa della bozzola oltre a gustare pizza trippa rane fritte e tanti ottimi piatti grande intrattenimento musicale sabato 15 settembre carta canta band domenica 16 settembre eros e brigitte per le celebrazioni religiose domenica 16 alle 15 funzione lurdiana e santa messa preseduta dal vescovo di vigevano per la giornata diocesana dell'ammalato sabato 15 e domenica 16 settembre a miradolo terme appuntamento con la festa dell'ufa rievocazione storica dell'armistizio sanasco a palazzo vescovile e nel centro storico cittadino di vigevano sabato 15 e domenica 16 settembre a san cassiano in mortara domenica 16 settembre beatrice la musa di dante con bianca garavelli domenica 16 settembre al parco area vula di pavia appuntamento con il sesto festival pet e giornata adozioni domenica 16 settembre dalle 14 alle 19 al centro sportivo comunale di santa cristina e bissone appuntamento con la manifestazione prova lo sport che più ti piace grazie alla presenza di numerose società sportive si potrà sperimentare lo sport preferito e assistere a diverse esibizioni tra pattinaggio badminton calcio karate atletica danza tennis e molto altro è tutto per le vostre segnalazioni chiamate il numero 0381 09 25 25 oppure mandate una mail a pubblicità chiocciolatelepavia.tv grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti